Bella a tutti ragazzi, ora ho un canale YouTube che si chiamerà Alfredo Ranini e poi farò dei video, il prossimo video è domani alle 4 e mezza che giocherò a CTA5, CTA5 no CTA5 online con mio amico che si chiama Rini poi lo faccio presentare per domani, quindi a domani, ciao!